Tour della mappa nuova, faccio vedere com'è, ok, questa è la nuova mappa Questi rumori Allora, vediamo un po', si, vabbè, la Sony Totem, qua Ok Allora, non vi sto cercando, ragazzi, sono un sacco di posti dove imboscarsi Ok Allora, qua è una jungle gym, la solita Lì è dove siamo passati prima Allora, sto vedendo... Ok, qua è la casa principale dove noi siamo morti Ciao Non vi uccido adesso, sto facendo il giro turistico Ok Ah, qua, ah, il dungeon è qua sotto, ok Cos'è che manca? Cos'è sta... Eh, se vieni dietro la casa grande c'è qualcosa di strano Dove? Sto venendo a guardare Dove? Aspetta, sei vicino, ti sento Ok Mi sa che gli sviluppatori si sono scordati qualcosa Con un gancio in mezzo, giustamente No, 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 questo è il gancio Eh, sì È il modello del gancio Quando lo piazzano Ha i contorni così Hanno lasciato i contorni del gancio evidenziati Figata Ah, ok, allora, vediamo un attimino Fermi Sono silenzioso adesso? Ora sì Sì Ok Ditemi se secondo voi sono... Mi sono teletrasportato Potresti, sì Sì, sì Ok Riproviamo Aspetta che si deve caricare Perché voi mi vedete fare un'animazione strana rispetto al solito, giusto? Eh, l'animazione di quando carichi il potere Secondo voi sono partito? Adesso sei partito Aspetta No, no, sono ancora qua Aspetta Eh, con l'insidioso è difficile capirlo Esatto Ah, perché non faccio animazioni Cioè, non faccio una specie di animazioni con le mani strana quando vado Questa qua L'hai vista? Sì, adesso la stai facendo Sì Sì, però il... Come si dice? Il battito cardiaco riappare Quando lo faccio? Sì Sì, sì Ora è sbarrito Ora sì Cioè, è fattibile però è un casino E comunque sentiamo il lullabi Diciamo Ah, senti comunque il lullabi Ok Ok, sta Facciamo così Io vado a fondo mapa Poi torno e vi ammazzo tutti Quindi buon divertimento 5 4 3 2 1 Arrivo I due calci di karate Ehi là Falcon La cosa non mi meraviglia No eh Mi hai perso forse Ehi là No, non è che ti perde Che sono cattivissimo Ehi Madonna che paura Ok Ed è il primo Eh, beh, 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 beh Vabbè, però ti devi abituare Ma il La lulli Il Il battito cardiaco È riapparso subito? Appena sono apparso io? Il tempo di vederti è apparso Ok Non ha capito che cosa faccio Quando la colpisco Sta cosa Bellissimo sto gancio Ho paura di appenderci la gente Devo essere sincero Lol Guarda che cattivissimo Ok Vabbè, qua è base Qua sono le basi In teoria Se hai messo Quell'abilità Doresti essere in grado Di sganciarti da solo Tra l'altro No? Eh, sì Vieni qui Mi viene a dire Vieni qui Detective Tap Non so perché Ma E sarà per via Degli impermeati Dungeon Abbiamo un dungeon Qui Sì Vabbè, non sanno come gesti Però Non è malaccio sto killer Alla fin fine Ok 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 Ehi Tristano YouTube Ricordati il more Sì, sì Me lo ricordo Ehi là Ciao Vieni qui Vieni qui Vieni qui Ho detto Ok Ok Meiers Sei Meiers No? Sì Sai cosa succede adesso? No Per qualche motivo Hanno rimpicciolito L'hitbox Dei pallet Sai? Ciao No Oddio Mamma È cattivissimo sta cosa Come ci sei rimasto? Malissimo Io cazzo Fantastico Ah, era secondo gancio Ok La mappa è piccola però Ho notato Oh Cama mia Ok ragazzi Ok ragazzi È morto Vi do Una piccola visione Della morte Per spada Se fate in tempo E mi spiace Ho acchiappato te Volevo acchiappare l'altro Ma vai tranquillo Ok Vai Penso che debbano aggiungere un po' di suoni Ragazzi Non vorrei dire ma E tu che ci fai qua? Vieni qui Detective Minchè se è difficile seguirlo Cioè non è veramente una cosa fatta per seguire il survivor questo Perché non lo vedi Cioè anche se lo seguo con Con le tracce Non ce la faccio Adesso vedete Eh potrebbe essere utile il perk per distinguere meglio le tracce Ciao Tutto turutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut stai commettendo un errore che fanno in tanti falcon non devi girare sempre qua sembra sicuro qua però non è mai sicuro girare qua cioè devi essere davvero davvero bravo per tenere un killer a girare qua perché ti fotte non ce la fai appena hai la possibilità devi correre da un'altra parte tipo qua dentro hai già più chance perché ci sono più uscite più cose eccetera ora io conto fino a 5 1 2 3 4 5 dove sei? eccolo lì ok arrivo allora le hanno spaccati tutti i palle tu hai una mappa senza palle no no le hanno già spaccati tutti eh io qualcuno l'ho usato oh mio dio come corro con le braccia in avanti ciao avete visto come correvo col col bloodlust che tenevo le mani in avanti mentre correvo figata però si è stordito mi sa si mi è stordito però o coso a livello 3 si è rotto si 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 il palle si rompe instant è una figata ok adesso visto che ce n'è rimasto solo uno e io sono uno stronzo adesso lo vado a cercare dove sei? pensate se però ci fosse stato rovina in mezzo e dovevate romperlo eh sarebbe durata meno la partita sicuramente si perchè c'è la lista and down perdi un sacco di sangue ragazzo lo sai sono ferito dovresti fare qualcosa per quella ferita ma stai aspettando che muore di sanguato demo? no eh? no no ha una gonnellina che si muove ciao vieni con me ti è andata male era il secondo ok però effettivamente come resistente fa eh fa eh fa praticamente mi è colpito subito dopo sì non è cioè è perfetto però tecnicamente mi spacchi un bancale in testa cioè voglio dire un po' violenta la cosa ragazzi ciao 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 scordato che avevo insidioso di qua di qua di qua eccolo e decisi sono serio oee arrivo subito che se no muore il povero falcon non vorrei mai non vorrei mai che morisi distanguato dove sei non morire distanguato falco per favore fallo per noi voglio vedere cosa succede se lo apprendo qua ragazzi su serio ok no no è proprio un bug tu eri al tuo primo gancio vero no 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 sei al secondo ok così il falcon lo puoi vedere bene oh yeah si non hanno nessun effetto sonoro attualmente buono buono ehi la come va bella giornata eh bellissimo fantastico sempre bello il mori no è bello però non ha effetti sonoro è un po' come il clown che all'inizio si diceva non sembra neanche che lo ammazza adesso hanno aggiunto il crack delle ossa della testa si effettivamente così sembra che lo ammazzi inizialmente se li muori sembra freddi ti fa clac con le dita e poi te le passa attraverso il corpo però una partita con io vorrei tanto fare una partita standard con survival standard comunque io non ci sono riusciti come? eh neanche io dammi 5 minuti ci sono anche io però ok proviamo per 5 minuti provo a fare una partita standard normale ok ragazzi un po' passa attraverso a insurdo però che ho spaventato è peggio di mai no no guarda che ha del potenziale ha del potenziale allora stasera 60 siamo in tanti stasera ragazzi posso dare due votazioni? due votazioni allora gli do un medio per tipologia killer ovvero di potenza un porca Eva di infarti sì di jump scale livello mayers oserei dire però penso che devi però a parte il fatto che sono contro gente che sa giocare poche palle non sono contro dei nabbi ok quindi è un buon modo è un buon modo per salvare come si chiama come si chiama come si chiama aiuto ok facciamo il toto no vabbè divora speranza ecco mi ricordavo eh infatti io non li vedo io non li vedo neanche i miei topi regali posso dire una cosa si nascondetemi o sapevo chi l'ha fatta sta cazzolata tanto c'è nessuna beca quindi ero morto morto per morto è un nuovo livello di troll è un nuovo livello di troll ma vedi solo lui o vedi tutti occhio l'ho fatta a trovarlo subito scusa eh stavo accanto al totem un po' di sotto lui stava venendo per decadre da perché sei rimasta lì io ti ho visto dalla finestra non ho capito perché è rimasta lì però ah perché ha sceso no ah è vero ho sbagliato totem ho sbagliato totem ho sbagliato perché volevo mettere rovina invece ho messo ossessione no è non devi mi curare che mi curare regà c'ho nessuna beca cacchio dimmelo prima ma che navi ti hai visto no so cieca ok so come Kalec cieca oddio quanta frutta quanta frutta oddio vedo solo i capelli vedo i capelli vedo i capelli no vedo più la cosa bella è che questo perk non perdo sangue ma è una figata penso sia un unico perk o p contro sta cioè almeno se è abbastanza bene contro questa escludendo gli scratch mark quanto sei brutta ciao mazza subito quanto sei brutta figlia mia poi provo la tipologia di tizia del giapponese vuol dire che mi fanno paura no? tipo ring io però sono un idiota ho messo potevi agitarti un pochino ma non ce l'avrei fatta con voi vabbè poi iniziavi no io comunque sono un idiota su sto gioco ho messo nervi d'acciaio che c'è la di passiva nessuna beca no e non vale sei infame odio ma che sta facendo è schifo sto chiedendo con la roba no cala il criollo cala mica mi fai pausa vieni qui vieni vieni sei brutta come lo schifo vieni qui brava vieni qua andiamo a giocare ma che è quella cosa che fai sulle mani ma che è ma che è ma che è ma che sei brutto ma che è chi è che si sta curando qua oddio ma che hai dovuto scusare ma che cosa ti ho sentito che ti curavi ti ho sentito l'ultimo giro di cura ma che devi di voglierti amore era per gli erdi mamma mia che figa vedi l'erba muoversi guarda che è l'ultimo gancho falcon ma facciamo giocare prendi me tanto mi hai già preso si ma ragazzi siamo ancora a 4 gem ma come si fa con questa è impossibile io sono convinta adesso ci faccio che siete sulle mani ciao 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 sky clic 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 vi è qua vi è qua vabbava vi è qua ma ok tu sei al primo secondo terzo quarto gancio io al secondo questo è il secondo non muori no no ok però se riempirla dicevo ma perché sei rimasto la dietro non ho capito neanche io però sentivo piano ciao ragazzi che mica fate le manie di suicidio fatemelo capire fatevelo capire parole povere per favore niente non riesco a fare i 360 e in afghanistan a posto non è 360 abile questa dove sei che ceva ti sei sacrificata ti lasciamo sacrificare non lo vedo ancora e basta con la stessa faccola ok scopo non lo vedete voi sganciato dopo il primo affendimento non puoi sganciarti domanda sta venendo a cercare me perchè io non dubbio me ne vado che decine del pubblico sapato ci mette un sacco di più a caricarsi io sono dell'altro lato della mappa sto bene sto felice nelle miei acuzzi ci sto facendo il brodo io qua sopra poverina ragazzi sono dall'altra parte della ma ecco il cavolo due anni fa e dall'altra parte della mappa sto arrivando adesso seriamente ma vai via la cosa spiegata e bocca io so un posto dove non potrai mai arrivare dentro il basement bravo no e all'ultimo gancio sky che bello sono bravo cacchio sbagliato è brutta sempre come puoi te lo ripeto e dai va piano sto succio comunque no nessuna bocca deve essere brava sta cosa ma dai non mi dire ma che cosa è successo ma non mi vedo un cazzo sto cercando disperatamente di non dire parolacce disperatamente ma perchè mi fa mamma mia eh no perchè hanno sistemato il vault bla 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 tu uccidimi di premazzo che brutto culo che c'ha io bellissimo invece non dire cavolate ma te se vediamo sparco e se tu guardi e non guardare se ti dà fastidio non guardare sei zonzo Kalec se tu senti offesa non sbirciare vergognati chi ti ha tirato su? ehm tu guarda c'era un passante te lo giuro mi è passato un gatto mi è tirato su bello nascondersi nell'armadietti si d'ho visto dove stai? mi allarga lo skill check però mi allarga anche mi diminuisce quello perfetto ma perchè non mettono un generatore nel basement porca miseria? perchè è sopra sia utile c'è sopra vabbè io non trovo i gen regà tu 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 ma che bello il tiri or friend che te valeri sate saluta tutto scleri per i bug madonna sembrano ci stanno un botto di punti che sembrano vicoli ciechi e quelli che non sembrano vicoli ciechi sono vicoli ciechi e avanti questo basement lei sei un coglione c'è lei che mi ha fatto l'ala come si chiama il coso dentro al basement 360 no no mi ha lanciato la roccia nel basement quando io ero dentro ma dove stanno le scale dentro la casa scusatemi oh mio dio vi lascio anche scappare tutti è troppo divertente è troppo bello quando riesco a seguire le tracce di sangue è fantastico le mie non le puoi seguire qualcuno no c'è rimasto male questo è stato da infame è stato da infame diverso non so a che gancio sei mi spiace non so neanche chi ho preso a dire il vero l'ultimo oddio falco scusatemi mamma l'infarto che si è preso sto ragazzo perché io no mamma mia per ora ancora non ti serve più ho sentito l'urlo per tutta la maiana ho sentito l'eco dell'urlo no poi abbiamo scoperto che riesce a entrarci da no io non posso urlare di nuovo però mannaggia mio padre mi uccide se urlo un'altra volta perché l'ho spaventata così tanto poverina non è un'altra volta non ho paura dove siete non posso stare attento questo è almeno il giro dei due e tre centi cosa ho fatto Dio santo che mi ha fatto no no io penso che due ore in poi fanno l'aspettatrice mamma mia ragazzi ma tu ci hai giocato contro Kalec sì in real non in prefatta in real ma loro ci vanno sì è fantastico sono diventato invisibile sul bianco non mi vedo mamma mia nel frattempo controllo whatsapp è libero in real in real in real in real non mi vedo avevo la mano sulla bocca per urlare ho urlato lo stesso oddio che figata troppo bello e ho urlato lo stesso ecco lì contro sta stronza per favore povera ascolti l'ambiente quante brutta sarò una figata io spero non lo rilasciano che fa piena così dopo inizia a capire come funziona io inizio a capire che non c'è gioco più a dpd almeno di notte c'è una figata sì vabbè adesso cosa scappa perché sì però guardano lì che se ne va dovrei farlo caricare più in fretta ragazzi è bello però così è me aspetta fermo lì stai fermo lì è settimer core dammi la mano settimer core no qua cioè a te non ti aspetta che sono non lo so la nurse ma freddy e myers che hanno scoperto di essere parenti e hanno un nipotino mamma mia nipotina è vero gg no io non posso giocare a questo tipo di di direzione